ragazzi siamo pronti a scoprire il segreto della figlia della nonna no cosa si nasconderà nello scantinato di slendrina lo stiamo per scoprire siete pronti questo è uno dei giochi di slendrina ce ne sono diversi io li ho scaricati tutti sul mio telefono sono pronto dovessimo riuscire a finire il primo a fiondarci immediatamente sul secondo per vedere in quale perché io non so in quale sarà nascosta la vera storia di slendrina so che un po in tutti ci sono delle comparizioni di granni della nostra nonna no lei dovrebbe comparire in tutti ma in quale in quale tra tutti ci sarà la maggior parte della storia questo non lo sappiamo speriamo di aver beccato quello giusto questo qua del seller da quanto ho visto io dovrebbe essere il più popolare perché è un po quello che ha più download ed è un po quello che ha più votazioni quindi teoricamente dovrebbe essere il più popolare quindi secondo me facciamo una buona scelta ad iniziare con questo ok infondetemi del vostro coraggio o anna di qua perché così mi dai mi dai supporto anna ha dato una testata stupida vabbè e siamo pronti a iniziare allora facciamo play non so niente di sto gioco ci sono tre livelli a quanto pare seller 1 2 e 3 vi dico intanto gli altri giochi che ho intanto possiamo fare solo seller 1 quindi andiamo easy gli altri che ho sono asylum che significa manicomio tipo poi c'è the school poi c'è the basement che è uno pure the basement è uno dei primi e poi c'è the seller 2 noi ora stiamo facendo the seller 1 seller sarebbe tipo scantinato vedi anna perché ti tengo accanto ok allora siamo qua dentro da questa parte abbiamo una porta con l'uscita ma non possiamo uscire ovviamente ci dice prima devi trovare tutti i libri per uscire ci sta ovviamente non è che ce ne possiamo andare di qua abbiamo tre strade e abbiamo dobbiamo trovare otto libri abbiamo anche un indicatore delle chiavi che mi fa pensare che dovremmo trovare anche delle chiavi quindi probabilmente alcune porte saranno bloccate da quanto ne so in questo slenderina qui dovrebbe apparire sia slenderina sia granny e sia anche il figlio di slenderina l'avete vista l'avete vista nella porta era qui in questa porta semi aperta c'era slenderina raga era qui ah porca miseria porca miseria porca miseria porca miseria porca miseria anna hai visto? no devi guardare mi sto sto avventando un moto allora calmi ah slenderina ti prego no ti prego non così da subito slenderina datti una calmata è ovunque è ovunque terribile bisogna come funzionava slenderman raga perché il funzionamento è simile a slenderman ah abbiamo preso una chiave mi sembra che non dovevi guardarlo giusto giusto ok ok oh mi sa che ce l'abbiamo vicino eh mi sa che ce l'abbiamo vicino slenderina una chiave usata chiudiamoci dentro sento dei gemiti dei rumori strani mi sa che c'è gente che muore uno dei libri uno dei libri abbiamo trovato ok ok manteniamo la calma all'inizio è stato un pochino traumatico però stiamo andando avanti bene ora eh stiamo andando avanti bene teoricamente lei si teletrasporta è un po' come lo slenderman no? perché lei da quanto ho capito io slenderina è la fusione cioè praticamente è venuta fuori da slenderman più granni quindi una nonna demoniaca con lo slenderman ed è venuta fuori sta slenderina qua quindi lei ha un po' entrambi i poteri della nonna e dello slenderman è la fusione di entrambe le cose quindi ricapitolando può teletrasportarsi come lo slenderman probabilmente ci vuole mangiare come la nonna e probabilmente ci sente anche bene come la nonna perché il potere della nonna era un po' quello no? cioè che lei sentiva bene poteva sentire dove noi ci muovevamo se facevamo rumore e cose del genere dobbiamo stare attenti allora secondo me ora sto tornando un po' indietro e questa non è una buona cosa quindi secondo me dobbiamo riuscire a trovare la strada dove non siamo andati ci sono dei lucichi strani mentre cammino però non credo siano oddio potrebbero essere un segno che slenderina è passata abbiamo un'altra chiave ho sentito un rumore un armadio posso posso inar... porca miseria porca miseria porca miseria non posso chiudermi dentro l'armadio Anna c'era una faccia vaffanquicquero c'era una faccia brutta dentro l'armadio ma che cavolo magari era uno specchio non è... non era uno specchio fai battute forse se giocavi tu poteva essere guardate questa ti assomiglia slenderina non sarai mica? può essere può essere che ne dite non ho visto un libro? non la guardare ok fin qua ci sono arrivato lei non vedi bene negli angoli delle porte perché hai saltato un libro come ho saltato porca miseria vabbè che poi non fa paura perché mi sto spaventando così tanto cioè solo sta signora che ti abbraccia e basta cioè non è che ti fa ma è un fantasma però insomma non è che i fantasmi sono tutti brutti nella scuola di minecraft abbiamo quella fantasmina nella casa è brava la slenderina è un po' così magari è slenderina quella là oh cioè pensa ha una faccia molto più carina di slenderina beh slenderina non è brutta hai bei capelli è tutta normale ma non l'hai vista ma non è vera non dirmi così che poi mi spavento di più è normale è normale è normale proviamo ad andare da un'altra parte perché di là non mi è piaciuto quel posto là proviamo a vedere queste porte tanto probabile allora devo guardare bene dietro le porte quindi qua c'è un libro e siamo sicuri ne abbiamo due una chiave utilizzata qui ce ne sarà un altro suppongo no no ma che ha usato una chiave non c'è nulla ehi voglio il rimborso ma che ah porca miseria poi mi fa girare mi fa avete capito cosa fa cioè lei è infida perché quando ti trova ti gira lei verso di te capito non sono io che mi giro per guardarle è lei che mi gira per farsi guardare è vanitosa avete capito allora aspettate manteniamo la calma allora questa è la stanza iniziale noi siamo andati adesso di qua giusto ditemi se sbaglio no no non eravamo porca miseria chi l'ha aperta sta porta perché io non l'ho aperta qualcuno ha aperto sta porta o l'aveva no forse forse questa è la prima strada che siamo andati ragazzi mi sto perdendo sto iniziando a perdere l'orientamento questo è il primo passo verso la follia e no ah porca slenderina vedi perché mi perdo perché lei mi gira e girandomi io perdo l'orientamento è ovvio una chiave una chiave una chiave presa 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 fuga 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 però fuga fuga di più fuga di più ok dunque abbiamo due libri e una chiave dobbiamo arrivare a otto libri non sarà facile lo sapete bene l'importante è che lo sappiate l'importante è che noi riusciamo a capire perché so che il finale il finale di slenderina contiene un'importante informazione per quanto riguarda il suo legame con nonna no con la granni quindi io voglio arrivare a quello noi dobbiamo assolutamente riuscire a finire almeno uno degli slenderina barca miseria slenderina sei terribile sei terribile poi in questa istanza non c'è mai nulla che cavolo ci entro a fare non lo so non lo so spiegatemelo voi mi sto iniziando a perdere raga mi sto smarrendo mi sto smarrendo è molto pericoloso secondo la leggenda comunque slenderina dopo essere stata concepita dalla nonna con lo slenderman ha avuto un problema con la nonna perché se ci fate caso slenderina in casa di granni cosa fa piange alla culla giusto piangendo alla culla lei sta piangendo il suo figlio il figlio di slenderina compare all'interno di uno dei giochi che schifo qua c'è una pozza di sangue incredibile compare all'interno di uno dei giochi il figlio di slenderina ok che dovremmo essere noi in teoria comunque compare e vi dico la verità è un mostro forse ve lo potreste immaginare non so se c'è qui perché qui sto vedendo che forse c'è solo slenderina in gioco poi nel finale probabilmente c'è anche la nonna però in gioco c'è solo slenderina il famma mia che cavolo era beh si assomigliava quello al figlio di slenderina eh si assomigliava perché io l'ho visto provando un altro dei giochi e vi dico la verità è parecchio brutto comunque praticamente quello che ho pensato ti prego no è slenderina no praticamente ovviamente quello che io pensavo è che la nonna potresse aver ucciso il figlio di slenderina capite? e noi in realtà non siamo allora il figlio di slenderina perché non avrebbe senso non siamo dei mostri credo nel gioco originale dico intanto siamo a tre libri eh non male non male potrebbe essere che noi in realtà siamo un semplice bambino che si è trovato lì di passaggio gio-gio-gio-ba raga ok porca miseria ciao slenderina ok va tutto bene mamma mia che occhi lei ci sta studiando sembra che non ci voglia uccidere comunque per ora qua ho detto le parole famose però effettivamente sembra che non ci voglia uccidere perché l'avrebbe potuto già fare attenzione agli armadi eh attenzione agli armadi e invece sembra che ci stia risparmiando secondo me ci sta ancora studiando ci sono dei secchi strani qua in giro voi fatemi sapere se mi perdo dei libri eh o se me ne sono persi eccone uno questo l'ho trovato tranquilli questo l'ho trovato sento dei rumori strani ho tenuto il gioco basso per precauzione oh e qua ho bloccato la tastiera perché sono un genio ti prego ok perfetto è la tensione è la tensione è la tensione stavo dicendo volevo alzare un po' il volume ecco così va bene così va bene così sentiamo meglio se magari ci sono degli indizi audio che ne sapete una chiave ecco vedete senza il volume non l'avremmo mai potuta vedere zitta slendrina slendranna azetta ok in questa stanza non credo ci sia nient'altro l'abbiamo esplorata credo bene eh credo bene giusto giusto ragazzi perfetto quindi dicevamo secondo me quindi la granny ha ucciso il figlio di slendrina e slendrina è rimasta a perseguitare la casa di granny per questo motivo il fatto secondo me è che granny secondo me odia anche slendrina e la nonna è talmente mostruosa che odia anche la sua stessa figlia e le ha ucciso il figliuolo per quello probabilmente la nonna mangia i bambini e si è mangiata anche il figlio di slendrina e quindi slendrina è rimasta intrappolata nella casa di granny ed è per quello che noi la vediamo nel gioco originale proprio per quello capite secondo me ha senso ora il problema è quest'altro per noi siamo a 4 di 8 di libri quindi non stiamo andando neanche male fatto è che io credo di aver esplorato ok questa stanza no calma slendrina eh un altro libro siamo a 5 siamo a 5 voi mi dovete dire raga assolutamente a spam se mi sono mancato un libro questo me lo dovete dire slendrina porca miseria slendrina però mamma mia ok sta iniziando ad essere aggressiva sta iniziando ad essere piuttosto aggressiva decisamente aggressiva qua c'è un armadio sono sicuro uscirà qualcosa di brutto no una chiave buono 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 allora torniamo in 10 5 di 8 stiamo andando piuttosto bene di qua non c'è niente giusto no ok dobbiamo tornare indietro io spero di non mancarmi la strada giusta tu Anna non ti ricordi da dove sono passato vero assolutamente no porca miseria eh niente proprio no ahaha eh io come faccio eh non ne ho idea nemmeno io ragazzi da dove siamo arrivati perché secondo me ci siamo mancati un paio di libri all'inizio per forza e se non riusciamo a tornare indietro qua sembra tutto uguale allora di qua no di qua no perché c'è la stanza principale di qua neanche secondo me secondo me è di qua secondo me è di qua dobbiamo riuscire a tornare nella stanza iniziale perché da lì secondo me ci siamo mancati qualcosa nella nel percorso di fronte ok ricordiamoci nel caso non è qua è dal porca miseria guarda che labirinto ma questo non è uno scantinale è un labirinto slendrin ti prego non spuntare lasciami vivere devo scoprire un altro libro questo non l'avamo trovato se porca cutretto ti prego 6 di 8 6 di 8 ce la possiamo fare 6 di 8 6 di 8 6 di 8 quindi se non è di qua sarà di qua sarà di qua di qua non c'è niente potrebbe essere di qua il fatto è che lion mancano i libri ok lo so però qua un altro no dobbiamo riuscire a tornare all'inizio dobbiamo riuscire a tornare per forza all'inizio il prossimo è il marito di granny raga lo sapete che c'è anche il gioco del marito di granny si chiama grandpa e se volete io vi porto anche quello fatemi sapere tanto ormai li stiamo provando tutti quindi non ci rimane altro che provare anche quello uh siamo arrivati ok allora la prima volta che abbiamo iniziato siamo andati dritti mi pare e secondo me voi mi avete detto all'inizio che mi era mancato un libro dietro una porta quindi secondo me è da queste parti perché voi me l'avete detto all'inizio potrebbe essere qua no ma siete sicuri non fatemi gli scherzi perché ma qui non c'è niente però no qui non può essere perché qua non c'è assolutamente niente allora di qua allora di qua allora una delle due strade delle tre strade è vuota non c'è assolutamente nulla siamo abbastanza vicini a vedere questo finale eh io spero che ci rivela qualcosa di utile qualcosa di segreto non lo so sulla storia eccolo quello che mi dicevate da questa parte probabilmente questo siamo a 7 di 8 7 di 8 ne manca solo uno ok concentrati raga concentrati manca solo un libro ma poi cosa c'è scritto in questi libri perché su Slenderman quando tu raccoglievi le pagine ti faceva vedere che cosa c'era nelle pagine qua no qua non ti fa vedere niente quindi è un po' più un po' più complicato io ho paura e mi becca prima o poi eh teoricamente se io continuo ad andare e non mi fermo ah porca cutrettola ti prego basta Anna mi piglia male eh e perché l'ho deciso di giocarci perché cosa mi è saltato in mente ragazzi tanto vi ringrazio tutti per essere qui oggi siamo 10.000 e passa quindi sono molto contento però questo gioco è terribile eh oh vi giuro io mi aspettavo ma abbiamo giocato a nonna no questo sarà una passeggiata invece no dà più tensione slendrina forse perché ah porca cutrettola perché non ti lascia un attimo per riprenderti ce l'hai sempre alle spalle con la nonna più o meno ti potevi decidere di nascondere da qualche parte e non ti trovava circa questa qui ti trova sempre e comunque manca teoricamente allora noi abbiamo una chiave se abbiamo una chiave significa che e siamo tornati indietro no 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 se abbiamo una chiave significa che l'ultimo libro potrebbe stare dentro una stanza che noi non abbiamo aperto quindi ci basta andare in giro cercare una stanza chiusa e teoricamente dovremmo trovare l'ultimo libro che ci manca una volta che li abbiamo trovati dobbiamo riuscire a essere eccolo uh ragazzi li abbiamo tutti 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 porca miseria devo correre di qua io corri alla porta di uscita ok ok dobbiamo tenere a mente dov'era la porta di uscita però raga eh mi pare di qua Anna tu non ricordi nulla no porca miseria non serve a niente perché ti ho detto di venire non lo so aiutami di più ti prego aiutami sto panicando allora abbiamo tutti i libri dobbiamo riuscire a raggiungere la porta d'ingresso è qua raga trovata vai 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 fatto raga fatto oh mio dio questo è il finale eh Slenderina è stata scacciata congratulazioni hai trovato tutti i libri tutti i libri e Slenderina è stata tipo respinta avete visto è stata tipo risucchiata indietro c'è dell'altro no c'è un annuncio ok curiosa come cosa cioè avete visto che praticamente come noi abbiamo trovato l'ultimo libro oh c'è tigro lì vabbè come abbiamo trovato l'ultimo libro Slenderina è stata risucchiata all'indietro quindi teoricamente in questi libri ci doveva essere qualcosa ora cambiamo passiamo da questo Slenderina all'altro uno degli altri ditemi voi preferite abbiamo Asylum e poi abbiamo The Cellar 2 che secondo me è il più bello sentite a questo punto abbiamo fatto abbiamo fatto il primo di Asylum no abbiamo fatto il primo di Cellar secondo me dovremmo fare il primo di ehm cioè abbiamo fatto il primo di Cellar dovremmo fare il secondo di Cellar giusto? Anna che ne dici? sì ok allora io avvio voi ragazzi vi lascio qualche secondo per votare secondo me il secondo di Cellar ci sta intanto io cambio il gioco e ci siamo quasi così là dovremmo esserci ok allora facciamolo bello grande passiamo lo schermo di qua e dovremmo esserci con aspettate che mi centro bene qua che cosa c'è aspettate togliamo questo ed eccoci qua The Cellar 2 questo qua è il secondo di Slenderina teoricamente lo schermo dovrebbe essere bello centrato fatemi approfittare dovrebbe essere a posto che dite eh Cellar 2 vi vedo d'accordi su Cellar 2 questo tra l'altro è forse l'ultimo tra i giochi di Slenderina dove quello di prima era probabilmente il primo quindi stiamo andando praticamente dal primo al secondo ok è una curiosa combinazione vedere l'inizio e la fine di Slenderina secondo me ci serve a capire parecchio di lei a meno che non ce li vogliamo giocare tutti però quello potrebbe essere opzionale una fatica opzionale allora in questo è parecchio diverso abbiamo la torcia qua sotto un po' la mia telecamera possiamo accendere e spegnere le luci magari ci si ci si dà qualche indizio non so per che cosa dovremmo accendere e spegnere le luci abbiamo raccolto una mappa che praticamente ci dà tutto il piano ed è bello grosso raga è bello grosso speravo fosse più piccolo prepariamoci un piano di esplorazione allora secondo me dobbiamo procedere prima girando a sinistra proviamo così proviamo così e questo è quello che io ho provato prima e dove compare il figlio di Slenderina e anche la granny qua compaiono entrambi quindi quello di prima teoricamente era giusto l'inizio ma gli eventi di questo secondo invece sono molto più completi quindi andiamo a destra non so nemmeno dove sono andato vabbè l'importante è che andiamo l'importante è che non ci fermiamo troppo a lungo qua noi non abbiamo non moriamo al primo colpo ma praticamente abbiamo la possibilità di continuare a scappare se veniamo raggiunti il fatto è che il figlio di Slenderina è un mostro e ti rincorre non è particolarmente brutto un libro che fortuna ok però seminarlo secondo me non sarà troppo facile non sarà troppo facile quindi non so bene come gestirmi la cosa Slenderina mi ha colpito spero di no spero di no secondo me se riceviamo due colpi due diciamo veniamo bersagliati due volte da Slenderina in un tempo breve moriamo qua la vedo molto più aggressiva comunque questa stanza è la stessa di prima vedete è la stessa stanza ci sono gli stessi scaffali però la mappa è diversa perché sono sicuro che sia molto più grande ora anche perché le porte qua era solo una la porta iniziale giusto? mi pare e se è più grande meno male ci hanno dato la mappa meno male che ci hanno dato la mappa un altro libro siamo già a tre libri però e non abbiamo ancora incontrato il figlio o la granny Slenderina sì lei non si fa attendere però vi assicuro che se troviamo il figlio non saremo contenti di averlo incontrato eh perché quello là è abbastanza rompiscatole porta chiusa non abbiamo chiavi speriamo di trovarne una il più in fretta possibile che roba è? che cavolo è sta cosa? una specie di incudine? una vasca da bagno rovesciata probabilmente probabilmente siamo riusciti alla search alle spalle la granny e il figlio di Slenderina perché probabilmente quei due erano all'inizio ma noi girando dall'altra parte credo che qua ci possiamo nascondere no so che ci possiamo nascondere in alcuni armadi ma credo non in tutti qua siamo tornati nella stanza di prima? no probabilmente no abbiamo una chiave però conviene che torniamo indietro e riandiamo nella zona dove abbiamo trovato una porta chiusa se riusciamo a ricordare dov'era orca miseria sto mistero raga si infettisce è perché è difficile voi immaginate dover navigare uno scantinato dove non ti attacca una sola creatura ma tre un altro libro cos'è stato? raga ho sentito un rumore ho sentito un rumore vuoi vedere che è il figlio? occhi aperti eh occhi aperti allora se andiamo di qua facciamo una lunga strada però secondo me ci conviene se lo troviamo dobbiamo per forza scappare sento un rumore strano che mi segue secondo me potremmo averlo vicino eh o lui o la granny probabilmente oh eccolo 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 che schifo è questo è questo che schifo l'avete visto? quello è il figlio di slendrina eh quello è il figlio di slendrina ed è parecchio rompiscatole cavolo ma ha beccato ma ha beccato non so se riuscirò a seminarlo praticamente non funziona ho provato prima a giocare ho provato proprio con questo non funziona porca miseria porca miseria non funziona neanche chiudersi perché praticamente loro possono aprire spaccare la porta l'unica cosa che funziona dicono è spegnere la luce e rimanere al buio quindi facciamolo tendete le orecchie non credo ci sia più credo che se ne sia andato credo che se ne sia andato il problema è che adesso io non ho idea più dove eravamo prima l'avete visto che brutto che era era brutto eh era brutto 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 un altro libro siamo a 5 ah porca miseria il libro il libro 5 di 8 5 di 8 però slendrina ci sta bersagliando eh qua è più aggressiva dell'altro sicuramente molto più aggressiva vedete che ha senso il fatto che lei si sia in cattività ha senso perché prima lei non era cattiva nel primo gioco non ci si lanciava addosso così tanto quindi ci sta che le sia successa una cosa orribile come il fatto che la granny le ha ucciso il figlio qua però non è ancora arrivato quel momento perché qua ci sono tutti e tre cioè c'è il figlio ah porca miseria porca miseria eh raga la vedo male la vedo male mi sta proprio addosso mi sta molto addosso possiamo guardare la mappa o ci uccide teoricamente sembra che possiamo oh oh chi ha spento la luce chi è stato nessuno meglio così allora da questa parte mi sembra che ci siamo già stati però mi sembra di sì proviamo ad andare di qua stiamo andando a caso totalmente a caso però ci mancano porca miseria il mostro il figlio il figlio il piccolo slenderino che schifo che fa ah c'è anche slenderina scusa non volevo insultare il figliolo chiudi 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 mettiamoci qua ci possiamo chiudere dentro no porca miseria spegni la luce spegni la luce fermi fermi zitti zitti fermi zitti zitti fermi credo che non ci sia eh qualcuno ha detto che ha visto la nonna dite dite secondo me no io non l'ho ancora vista non l'ho ancora vista quindi spero che non ci sia ah porca miseria slenderina lei è la più attiva qui eh mamma mia sei attiva ci serve una chiave qui vediamo il punto ok ok porca mi basta quanto sei odiosa cosa brutta è che noi dobbiamo andare anche se la vediamo in un punto dobbiamo andare lo stesso perché non possiamo tirarci indietro capite altrimenti lei ci frega dov'era la porta chiusa era questa no si 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 chiudiamoci qui chiudiamoci qui qua ci dovrebbe essere un altro libro o almeno credo no no come no no mamma mia via 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 dove dobbiamo andare allora siamo sempre a 5 di 8 non abbiamo ancora incontrato la nonna però ma vi assicuro che c'è vi assicuro che c'è perché l'ho vista sono sicuro che c'è molto più difficile questo del precedente eh molto più difficile anche perché è molto più grosso il livello è enorme non so se tipo magari i libri ce ne sono di più e quindi tu puoi avere la fortuna di finire di trovarli anche prima di aver esplorato tutto però comunque vada è difficile questa è chiusa questa è chiusa qua non c'è niente ah dobbiamo ricordarci che qui c'è una porta chiusa è pieno di porte chiuse qui ma proprio pieno e io non so se lei le richiude non credo eh però secondo me ce l'abbiamo anche vicina eh vi dico la verità secondo me ce l'abbiamo vicina o è lei o è la granny e la granny non ho neanche idea di che cosa ti fa cioè ti uccide sicuramente però non ho idea se ti insegue come il figlio di slenderina ce l'abbiamo alle spalle ce l'abbiamo alle spalle dobbiamo seminarlo quello è infame quello non lascia scampo non lascia scampo l'unica cosa che possiamo fare è chiuderci qua torcia spenta e sperare che non ci trova ho sentito un colpo noi non ci muoviamo se ne sarà andato forse sì proviamo a aprire sembrerebbe di sì ma noi dobbiamo tornare indietro però è per forza potremmo provare a andare a vedere un po' questa zona qui eh però secondo me quello che ci serviva era di là qua perché qua ci siamo già stati io manco mi ricordo dove ero ora forse sì forse sì di qua e poi a destra dovrebbe essere siamo sempre a 5 di 8 e vi assicuro che qua secondo me qualcosa di importante la scopriamo se lo finiamo eh perché è l'ultimo è l'ultimo slenderina prima di granny quindi ci sta che qua il collegamento ci sia ok 6 di 8 buono ah basta oh ma posso ah no non te ne andare mi spavento se no non te ne andare rimani che se sono da solo è peggissimo ok grazie allora sono tutti gli iscritti eh lo so ma non li vedo cioè li vedo li vedo lì ma è meno mi serve compagnia fisica sono molto leone il cane fifone ora eh dunque là c'è un'altra porta chiusa io ho paura e becchiamo la nonna secondo me la becchiamo la nonna eh già siamo stati fortunati a non beccarla finora ma secondo me la becchiamo la nonna dove stiamo andando ora? no di qua ci siamo già stati però di là c'è l'uscita giusto? sì allora dobbiamo andare verso questo lato qua secondo me ah porca cutrettola di qua questa è l'unica strada secondo me più intelligente che possiamo percorrere proviamo ad andare di qua che c'è una stanza sola la nonna la nonna l'avete vista? quanto è schifosa ecco dov'è è più grassa che nel gioco normale avete visto? ce l'abbiamo sempre dietro porca miseria raga provo a chiudermi qua la nonna spacca le porte però una chiave una chiave prendi la chiave presa presa ora lei spacca la porta la nonna la porta mamma mia ci stanno massacrando eppure il fantasma della nonna siamo in un vicolo cieco fuga 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 mamma mia proviamo di qua stiamo per morire non stiamo messi per niente bene una chiave usata chiudiamoci dentro spegniamo la luce zitti sta spaccando forse no forse è andata non muoviamoci stiamo al buio il buio ci protegge disse nessuno mai in un film horror ok andata 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 mamma mia mamma mia brutta la nonna eh eh si lo so più brutta del normale sarà andata dove siamo ora però siamo da questa parte proviamo a andare di qua forse di qua ci siamo già stati però eh si infatti questa è la qua ci siamo stati? no perché c'è un libro no siamo a 7 di 8 7 di 8 proviamo ad andare avanti qua in questa serie di stanze che sono simili a quella di prima e forse queste sono quelle di prima probabilmente sapete dove dobbiamo andare raga dobbiamo tornare indietro sì perché qua ci siamo stati dobbiamo andare dove era la nonna ok e so anche dov'è perfetto ci manca un solo libro le slenderina non venire da me perché io non sono slenderino no non sono slenderino no che non lo sono io no 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 ah la nonna devo passare nonna devo passare vai a quel paese ok dovrebbe essere di qua vediamo la mappa velocemente ok sì va 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 la nonna non è pericolosissima qui eh perché è lenta e non ti uccide in un colpo quindi ci sta chiudiamoci dentro proviamo a vedere se per caso non c'ha chiappa libro 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 niente eh niente libro niente libro e nonna sta arrivando prova a spegnere mi sa che è entrata forse no forse è andata sì è andata è andata è andata vediamo dove possiamo andare ora dritti dritti secondo me porca miseria ma io lo so lo so che l'ultimo pezzo non lo troveremo mai lo so e sarà un pasticcio sarà un pasticcio bisogna controllare ragazzi voi se vedete qualcosa dovete assolutamente dirmelo grampa grampa si lo faremo secondo me se vi interessa vedere anche grampa lo facciamo come prossima live semmai per ora voglio scoprire di più su slenderina però di qua c'è un'altra stanza grossa ci sta che qua ci sia un libro ti prego una chiave il figliolo no il figliolo no ti prego no il figliolo no aia slenderina ma mi lasciate stare un libro? no cos'è qua? una ruota aia credo il figliolo dietro una chiave una chiave porca miseria ma vai a farti una vita sei grande è cresciuto ricordiamoci dove stiamo andando dritto dritto porca miseria me lo dimentico di brutto drittissimo un sacco dritto no non chiudere chiudi ora chiudi ora spegni la luce fermi e zitti mamma mia andato? ma noi ora dobbiamo ritornare là perché quella chiave ci serve dobbiamo eh ok è passato andiamo speriamo di non ritrovarlo per la strada era dritto dritto ancora e poi a destra mi pare no? giusto Anna? non sei affidabile vabbè no ti prego aiutami Anna è importante ah di qua dovrebbe essere no si no raga l'ho pe dai dove era? non era qui non era qui forse qui? no qui però potrebbe aspetta no allora era più in qua ancora? raga aiutatemi tipo di qua era mi pare che era ok forse ho ricordato ho ricordato ho ricordato se Slenderina qua qua era qua era qua era qua era qua la chiave Slenderina la chiave presa presa via 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 dove è la chiave che ora dobbiamo usare? Slenderina ci stava per ammazzare lì eh dobbiamo scappare ora ok ci manca quindi la stanza adesso sicuramente la prossima stanza chiusa che apriamo ci sarà dentro il libro sono convinto nonna no nonna aia nonna maledetta pure la nonna è terribile raga qui è terribile ti dà quegli artigliate almeno non ti one shota come nel gioco però speriamo che non arriva mi sa di sì raga porca miseria nonna perché? brutta infame ma ha raggiunto dai lasciami vivere nonna e mo? accendi la lu- mamma mia siamo in un piccolo cieco nonna ok se n'è andata se n'è andata nonna no 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 ha cambiato idea aia dove devo andare aiuto mi manca l'ultimo libro non lo troveremo mai lo troveremo lo troveremo calmi eh siamo 12.000 eccola qua forse no questa era già era già aperta chiudi spegni la luce la luce forse non viene forse non viene andata via andata via andata via ok qua non siamo entrati comunque eh qua non ci siamo entrati peccato che non sembra eserci il libro sì questa è sfortuna vediamo se possiamo forse forse so dove andare forse so dove andare no qui ci siamo già stati qui ci siamo già stati dove non siamo stati probabilmente lo so probabilmente lo so forse lo so allora apriamo dobbiamo girare di qua e dobbiamo fare tutto il giro perché dall'altra parte verso destra tanto siamo 12.000 ragazzi grazie a tutti sono molto contento che vogliate scoprire anche voi i segreti della figlia della nonna che non è nostra mamma tra l'altro perché è la mamma di un mostro che abbiamo pure già visto che schifo che faceva mamma mia ecco una porta chiusa ok ti prego sì qua ma dai ma che sfortuna cioè abbiamo usato la chiave per aprire una porta e non c'era dentro niente attenta il mostro il mostro ma fammi passare devo andare di qua ok dobbiamo correre ancora un po' poi ci nascondiamo correre un po' un po' e nascondiamo qua dentro tipo così e spegniamo la luce zitti aia mi sa che sta entrando forse sta entrando forse no è andato via forse è andato via maledetto quel figliolo cioè è un infame quel figliolo raga è un figliolo infame ok possiamo andare possiamo andare ci manca l'ultimo libro sempre l'ultimo libro difficile difficile perché quando te ne manca solo uno non sai mai dove cercarlo qua siamo stati qua no ok no sì qua sì qua sì perché era chiusa inquietante apri 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 che slenderina secondo me ora ce l'abbiamo lei sulle tracce qui magari ti prego raga ditemi che non me lo sono perso l'ultimo libro perché io sto andando un po' dappertutto forse ah ho capito dove deve essere vedete che c'è quella stanza grossa questa qua nell'angolo a destra sì sì è lì secondo me è per forza lì perché quella stanza non ci siamo andati per forza per forza che ve ne pare della teoria che ho detto io raga del fatto che la granny abbia ucciso il figlio di slenderina vi sembra sensata questa è chiusa ok questa parte quindi non l'abbiamo esplorata è un buon segno il figlio mamma mia e mo io non me ne devo andare però da qui possiamo fare ahia il giro facciamo il giro speriamo di seminarla e anche la nonna qui va bene abbiamo capito che questo è il centro dell'azione però eh abbiamo capito che è il centro dell'azione proviamo a correre vediamo se riusciamo a mollarli così forse sì eh forse sì eeeh il treno della nonna era quello ok siamo nella stanza qui spegniamo la luce un attimo ok ok perfetto dovrebbero essere andati uuuu uuuu e qua troviamo roba interessante raga allora questa è una lapide e c'è scritto slendrina ok ok qualcosa in me si sta facendo strada raga ma non è che la nonna poco poco ha ucciso anche la figlia cioè la nonna ha ucciso slendrina raga ecco l'ultimo libro possiamo uscire ora la nonna ha ucciso slendrina e questa è una culla è la culla di slendrina porca miseria siamo un po' fregati eh le cose si stanno mettendo male per noi dobbiamo andare dritti qua raga secondo me la nonna ha ucciso slendrina la sua stessa figlia ed è per quello che slendrina è un fantasma e la nonna invece è corporea perché la nonna l'ha uccisa mica è storia brutta capite e il figlio di slendrina è sopravvissuto ma probabilmente lei lo ha maledetto o la nonna o slendrina lo sta sfruttando per cercare non lo so di uccidere la nonna ma non sembra che la voglia uccidere sembra che voglia uccidere noi più che altro maledetto cos'è stato qualcosa mi ha mi ha spostato porca miseria non ci voleva questa ah ci ha girato completamente no no dai no mi ha ucciso one more chance si si devo guardare la pubblicità è benvenuta no mamma mia raga per un perro cioè se non c'era la one more chance eravamo fregati eh ma c'è c'è tranquilli ora dovremmo finisce la pubblicità ok 13 secondi tranquilli vale la pena una pubblicità la miglior pubblicità della mia vita ah che bello ah che bello mmm piace mamma mia mamma mia ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo chiudiamo qua e ci siamo ok ma dite che abbiamo ancora il mostro alle spalle no ok siamo giusti dobbiamo andare di qua di qua dritti dritti per dritti dritti per dritti dritti per dritti speriamo di non ritrovare il mostro però eh poi dopo appena finiamo ci lavoriamo di mente sopra cerchiamo di capire che cosa stava succedendo con quella lapide e la culla però ora dobbiamo finire e guardare questo filmato finale che probabilmente ci farà capire qualcosa in più o almeno lo spero siamo quasi arrivati sì ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo dum fatto 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 primo tentativo eh oh la skill non è acqua vabbè scherzo ok siamo in uno scantinato stiamo salendo le scale probabilmente stiamo uscendo dal posto dove eravamo dal cellar ci si è chiusa la porta in faccia benissimo fine ma come così dai no ti prego deve esserci qualcos'altro no 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 una pubblicità c'è ok questo mi ha lasciato un po' interdetto Anna che ne dici tu eh io mai aspettavo che si vedesse che ne so che la nonna faceva qualcosa però c'è una un indizio importante che abbiamo ricavato eh tanto lasciatemi un secondo che passiamo al prossimo perché secondo me sapete che abbiamo ancora Asylum e abbiamo House of Slenderina House of Slenderina probabilmente è ancora uscito ancora prima di Cellar 1 quindi è vecchissimo e potrebbe essere che lì c'è qualcosa intanto io vi voglio dire ma secondo voi ma è vero che la nonna ha ucciso Slenderina cioè sua figlia perché secondo me sì cioè io penso di sì Anna tu che ne pensi pure secondo me perché la nonna è un mostro e la nonna è corporea è viva non è un fantasma invece Slenderina è un fantasma capite cosa voglio dire quindi essendo un fantasma significa Slenderina è morta e chi può averla uccisa secondo me la nonna secondo me la nonna per forza la nonna ok allora intanto io ho preparato il prossimo gioco eccolo qua ora vi permetto di guardare e questo qua è la casa di Slenderina non ho idea di quando si è uscito perché questo è un po' nascosto sul sull'app store non è facile da trovare il primo che si trova cercando Slenderina quello più vecchio è il Cellar 1 poi c'è il Cellar 2 che è l'ultimo invece e ce ne sono un paio di mezzo Asylum e School vi ho detto è un altro forse questo qua è nascosto si trova se cerchi proprio tra le applicazioni create dalla stessa persona che ha creato Granny quindi diciamo che è un po' quello segreto ecco se vogliamo dire così c'è nella nell'ombra c'è la faccia di Granny ora se facciamo 2 più 2 cosa possiamo capire questa è la casa dove Slenderina è cresciuta con la nonna con sua mamma quindi ora ci sta che in questo gioco qua noi possiamo assistere alla scena dove la nonna la uccide perché poi quello che noi vediamo dopo è che Slenderina sta infestando lo scantinato della casa dove lei è vissuta della casa di Granny è vero quello scantinato poteva essere in tutto e per tutto lo scantinato della casa di Granny solo in versione più grande c'ha senso va bene andiamo difficoltà facile come sempre vediamo se riusciamo a trovare delle similitudini tra questo o no devo scoprire il mistero di Slenderina chi è realmente oh finalmente questo è il gioco giusto era questo era questo raga era questo abbiamo una mappa anche qua oh mio dio ma questa è la casa è simile raga è simile allora c'è una stanza che si chiama cellar door quindi di nuovo si torna allo scantinato raga poi c'è cucina camera da letto raga potrebbe essere la casa che conosciamo devo trovare quattro pezzi di un quadro per aprire questo questa questo armadietto lo stesso quadro che tra l'altro io non ho mai fatto quel quadro lo dobbiamo fare su Granny però non trovate che sia una curiosa coincidenza il fatto che anche qua ci sia un quadro da comporre secondo me lo è anzi non lo è non è una coincidenza guardate ci sono i libri però stavolta non li dobbiamo raccogliere quanti sono? uno due tre quattro cinque sei sette otto otto sono otto libri un'altra cosa strana un'altra coincidenza? ragazzi ah mamma mia ragazzi secondo me qua gatta cicova gatta cicova c'è qualcosa che non torna questa porta è chiusa questa è aperta semi chiusa strano inquietante e ormai abbiamo ci abbiamo preso la mano con quello che fa Slendrina ormai lei diciamo che ci ha quasi accettato secondo me cioè nel senso preso ad accettare penso però è un altro discorso questo è un pezzo del dipinto? sì abbiamo il primo pezzo possiamo aprire questa porta perché abbiamo una chiave sono due poltrone bruttissime tra l'altro e nient'altro è un altro pezzo del dipinto ok cerchiamo di vedere se riusciamo a capire che cosa rappresenta il dipinto prima di comporlo però abbiamo preso una parte che a me sembrava una pistola un'altra parte non lo so cerchiamo di non perderci la strada capite? riusciamo a capire dove stiamo andando del sangue per terra perfetto un pendolo che sembrava Slendrina un'altra chiave ok abbiamo di nuovo una chiave controlliamo tutti i cassetti ormai la grani ci ha insegnato questo una chiave usata mamma mia un altro pezzo di dipinto non ho idea di che cosa rappresenta sta cosa però lo so che lo voglio finire so che lo voglio finire proviamo a vedere di qua nel pendolo magari niente niente c'era una porta chiusa? mi pare che c'era una porta chiusa di qua forse no di qua mi sa che non ci siamo mai stati che bei dipinti Slendrina eh che belli mamma mia la felicità proprio tutti in bianco e nero uno più brutto dell'altro segni di morte che poi se questa è la casa della nonna non mi stupisce che ci siano delle cose del genere la nonna è un mostro secondo me Slendrina in realtà non era un mostro lo è diventata dopo che la nonna l'ha uccisa se ci pensate ha senso guardate un quadro della nonna un dipinto della nonna che schifo quindi questa probabilmente era la stanza da letto della nonna e questo chi cavolo è che brutto che brutto oh Anna mi avevano chiuso dentro ah la nonna la nonna la nonna è lì la nonna non devo guardare non devo guardare se non muoio se guardo muoio se guardo muoio ma avete visto ragazzi c'era la nonna c'era la nonna lì un'altra chiave mamma mia porca miseria dobbiamo girarci subito se la vediamo dobbiamo essere pronti a girarci subito la nonna seduta sul letto forse in rimorso in un segno di rimorso per aver ucciso la figlia può essere e poi la figlia ha maledetto questa casa e da lì sono successe tutte le cose che noi conosciamo con granni c'ha senso c'ha senso ah diamo un'occhiata alla mappa dunque dovrebbero essere delle scale e dovrebbero essere queste infatti infatti ecco le scale stiamo a 4 pezzi su 8 una chiave usata niente qui si ce ne cos'era una mosca niente però c'è un altro pezzo di dipinto siamo a 5 pezzi 5 pezzi senza paura ragazzi continuiamo 6 pezzi un'altra chiave no slenderina non ti far vedere perché brutta un pochino sei fa vedere qua dove stia oh che ho visto raga cos'è sto schifo cos'era quello schifo sembrava la testa della nonna sembrava il figlio ma non era il figlio era la testa della nonna che schifo era una chiave usata quando usiamo le chiavi di solito troviamo qualcosa di buono qui non c'è niente che schifo era quella roba sembrava tipo questo è un ritratto di slenderina quindi questa probabilmente è la camera di slenderina la sua camera la sua stanza mamma mia ci sarebbe il bagno dobbiamo andare a vedere il bagno ma quella testa era la testa della nonna è una mozzata secondo me quindi ci sta che in questa e con forse perché la nonna è una sorta di zombie perché slenderina l'ha uccisa per vendicarsi ci sta l'avrei fatto anch'io siamo a 7 pezzi su 8 7 di 8 dobbiamo scendere di sotto ora no non è vero perché abbiamo ancora due stanze mi sa dritto in fondo qua mamma mia che storiaccia no no abbiamo sbagliato invece abbiamo sbagliato non era di qua devo mantenere la calma Anna mantieni mi dai dell'acqua grazie e di ieri non mi piace non bevo l'acqua di ieri ok di qua non dovrebbe esserci niente abbiamo già visitato qui e qui ok dobbiamo andare di porca miseria slendrina ok ok qua dobbiamo scendere abbiamo preso tutto dal piano di sopra qui non c'è più niente grazie abbiamo zero chiavi però questo non ci vuole significa che se troviamo qualcosa non la possiamo prendere slendrina ti prego fammi finire mi manca solo un pezzo e qua mi sa che non si può continuare perché quella è una cosa dell'ultimo e basta non lo so non lo so proviamo a proseguire di qua proseguiamo di qua dobbiamo vedere ancora la zona della cucina mi sa però qua ci siamo già stati ragà non lo so ci sono delle altre scale mi sa che dobbiamo andare là invece cerchiamo di ricordare dove stiamo andando non perdiamo di vista la via qua c'è una ah qua serve una chiave qua serve una chiave però credo di capire credo di capire dove dobbiamo andare no non è vero non ho capito assolutamente niente ok fantastico non posso rifare il quadro con sette pezzi secondo me viene bene uguale no no qua dove siamo è che io devo andare mamma mia ragazzi noi dobbiamo andare ci sono delle altre scale dobbiamo andare là ma non le trovo voi non le fare non mi spaventare slenderina tu lo sai perché non preme bene ok dovrebbe essere di qua le scale allora secondo me ti prego fammi trovare queste scale se non sono qua non lo so eccole sono qua ok e qui quindi scendiamo di sotto aspetta lì c'è una chiave ok l'ho vista da lontano perfetto secondo me qua andiamo a finire nel cellar dove siamo dove abbiamo giocato prima ragazzi the floor is locked you need a cellar key what una chiave speciale non è che magari inizio a comprendere non è che magari la cellar key si trova dentro il cabinet del dipinto e noi terminando il dipinto prenderemo quella chiave dovremmo tornare di qua potrebbe essere potrebbe essere intanto abbiamo la chiave che ci serviva quindi se riusciamo a ritrovare dove era la porta che era chiusa dovremmo essere in grado di riaprirla dovremmo qua siamo già stati non dobbiamo mai guardarla è quello il segreto praticamente lei ti uccide se la fissi se tu riesci a girare subito lo sguardo non ti uccide questa credo sia la stanza che avevamo visto prima è la cucina che schifo che schifo si potranno aprire questi non sembra oh mamma mia sempre alle spalle un'altra chiave no io volevo il pezzo di dipinto abbiamo preso un'altra chiave quindi qua non abbiamo trovato praticamente cioè nulla non abbiamo trovato niente controlliamo bene però controlliamo bene che non vorrei fregarci con le nostre stesse mani no non c'è non c'è non c'è e cosa ci manca camera da letto siamo stati forse l'ufficio di fronte a noi quindi qua si probabilmente non siamo andati in ufficio però no si ci siamo andati si qua ci siamo stati Anna aiuto Anna aiuto non lo so soccorrimi faccio un ballo del soccorso no devi dirmi dove devo andare bevo non lo so sai come buttavo l'acqua in giro se mi appariva slendrina non lo so raga dove può essere qua c'è sempre la nonna guardate la nonna rimane qua rimane qua seduta sul letto che cavolo succede non lo so è qualcosa di strano è qualcosa di strano magari sotto il letto oh oh no no non puoi guardare sotto il letto qua c'è di nuovo il cellar ma noi abbiamo solo una chiave normale quindi non dobbiamo andare lì dove dobbiamo andare Anna help vieni mi aiutare sto guardando mi manca una cosa una stanza quale stanza non abbiamo visto nella camera da letto che cosa avete visto nella camera e che se mi concentro a leggere quello che mi scrivete rischio di morirci vedete non possiamo mettere ancora i pezzi ok allora di qua ci siamo stati più di una volta tutta sta zona l'abbiamo vista tutta sta parte noi l'abbiamo già vista o al piano di sopra ci siamo persi qualcosa dite che può essere dalla nonna avete visto qualcosa dalla nonna? io non ho visto niente dalla nonna più che altro non è che ci potevo guardare troppo anche eh se ci devo riandare ditemi se devo riandare dalla nonna anche qua mi sa che siamo andati dappertutto comunque eh voglio ridare un'occhiata qua sopra di là si scende teoricamente ci manca una porta chiusa ooooh nel bagno nel bagno niente no ma io sta zona l'ho vista già e l'ho vista anche bene sono sicuro Anna vienimi a leggere la chat perché io non riesco a leggerla riesci a ti a propinquati ecco leggi vai dicono di andare dalla nonna perché eh tu gliela hai ah ecco quindi dicono che c'è il pezzo lì corridoio dei dipinti corridoio dei dipinti sì ok proviamoci il bagno corridoio nonna 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 tutti dalla nonna ma secondo me vogliono andare dalla nonna per vederla non perché c'è il pezzo no cerca di capire Anna dicono vicinati alla nonna ma siete mati no no vicinati dalla nonna no è troppo rapida la chat non riesco a leggere ah Anna serve dicono molti nel corridoio corridoio dei dipinti giusto sì e ora non ricordo neanche dov'è eh qua forse giusto no porca miseria no è da tutta tutta l'altra parte tutta l'altra ti prego mamma mia la nonna però eh rimpiango la nonna raga rimpiango la nonna non è qui qua dobbiamo andare dritti in qua sento camminare anche teoricamente il corridoio dei dipinti dovrebbe essere in pondo qua eccolo qua è qua il corridoio dei dipinti dite che c'è un pezzo attaccato tipo ma tu non puoi toccare i dipinti no 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 posso strofinarli neanche niente non posso fare niente con i dipinti qua sono già ah no dottor miseria miseria mi stava fregando eh mi stava fregando pensavo di essermi distratto da guardarla invece no e raga qui non c'è niente c'è si arriva qui alla nonna vedete questa è la stanza della nonna no però non c'è nulla cioè se io non mi avvicino alla nonna raga cioè non so ah basta prova a avvicinarmi alla nonna ok sono morto mi sa che sono no non sono morto ok la nonna è tipo era una specie di visione non era reale non era reale la nonna mamma mia che paura mi sta a piglia male Anna eh te lo dico non trovare l'ultimo pezzo è brutto allora cerchiamo di ragionare cosa non abbiamo visto la cucina l'abbiamo vista le scale tipo oh mamma mia era qua era qua dai era dietro la porta avete capito forse l'avevano visto loro che dici è probabile ma con la chat così eh non si riusciva a capire prova a vedi se dicono dell'altro teoricamente abbiamo trovato l'ultimo ok ci siamo dov'è il cabinet teoricamente ci siamo non freghiamoci ora apriamo ok era una chiave infatti come vi dicevo il cellar questa era la chiave del cellar ora teoricamente dobbiamo andare nel cellar ok porca miseria tutto di qua tutto di qua teoricamente di qua infatti ora stanno scrivendo tutti eh l'avevo detto eh era difficile leggere le cose ragazzi raga perché se mi distrago slendrina ne approfitta secondo me qua troviamo qualcosa importante eh perché sembra tutto ricollegarsi che hai fatto? volevo provare a salutare ah non puoi no aperto cellar key e used sono entrato nel cellar infatti come vi dicevo questo è lo scantinato probabilmente è lo scantinato della casa della nonna mamma mia ma quindi ancora non abbiamo finito una cassa cosa c'è? niente è vuota secondo voi cosa dobbiamo trovare ora? puoi interagire con i barili dici? no no secondo me dobbiamo trovare la chiave per andarcene c'è una mappa? sì non sono molte stanze eh non è che qua dentro troviamo tipo la nonna ah mamma mia basta secondo me è tipo rotto i timpani a mezzo a mezza Italia oggi eh sì un urlo ogni tre minuti è elusione raga ma sapete neanche mi spavento tanto ma è proprio la reazione capite? ah che devo fa? vedo gente che si muove in giro qua non mi piace però che dobbiamo fa? cos'è qua? un oggetto? che cos'è? il piede di porco? probabilmente lo devo utilizzare su una porta qui nel cellar però ci specifica quindi non di fuori io speravo che dovessimo usarlo per andarcene invece no il ragno nonna avete visto? terribile terribile niente qui ma perché ci sono sti bauli? se non servono a niente pina peppina peppina Anna abbeverami come? ma no abbeverami ma no ho sete ah aspetta ok piano eh ce la possiamo fare con calma abbiamo il crowbar dove dobbiamo andare ora? tutto a a sinistra sto iniziando ad avere problemi con l'estra e sinistra è un brutto segno eh significa che sto perdendo è la mia fluenza brava sto perdendo la sanità mentale a giocare a a tutti gli slenderini in una botta sola si dice che se li finisci tutti in un giorno muori ma noi fortunatamente ne abbiamo ancora da fare altri eh ok quindi di qua niente dobbiamo andare sulla sinistra allora mi sa vero? ora ho girato a destra? o a sinistra? a sinistra quindi ok si devo andare a destra teoricamente di qua troviamo la porta da aprire io voglio scoprire qualcosa se no qua all'inizio del gioco ce l'ha detto eh troverai la soluzione al mistero di slenderina e io la voglio questa soluzione non mi accetto senza la soluzione non accetto di vincere se non mi viene rivelato questa era la porta della si questa era la porta dove ha utilizzato ah il coso slenderina ok controlliamo bene intorno non facciamoci fregare un altro baulo eh la miseria che roba è? una foto con la nonna vedi Anna la nonna slendrina e slenderman che strano l'ho toccata c'erano anche dei teschi là dentro eh la famiglia al completo la famiglia al completo slenderman slendrina e nonna congratulazioni sei riuscito a trovare la risposta al mistero di slendrina quindi la risposta teoricamente è che che sono una famiglia cioè non non capisco ok ok però ce l'abbiamo fatta perché infatti dal suo nome non si capiva infatti cioè quello si capiva ma io pensavo cioè secondo me il mistero reale smettila con quella mano il mistero reale è che la nonna ha ucciso slendrina lion leggi la nonna ha ucciso slendrina e slendrina per riavere suo figlio ha perseguitato la nonna così granny ha ucciso pure lui e adesso si sente in colpa non lo so ah giusto devo leggere le donazioni ce ne sono un sacco allora ringrazio miseria quante aurora manuel greg toro che chiede di far giocare Anna tra l'altro primo o poi lo si lo devi fare poi THC FranCTV toro di nuovo che ridice di far giocare Anna e c'ha ragione extremis THC di nuovo FranCTV mamma mia quante volte aia e filomena grazie a tutti ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo completato slenderina in tre diverse versioni niente di meno compresa quella finale anzi segreta diciamo che è la casa di slenderina che ci ha fatto capire parecchio di più io lascio a voi un po' di conclusioni su quello che può essere il vero mistero di slenderina e granni e direi che per oggi ci possiamo fermare qua vi ringrazio tantissimo di aver partecipato anche oggi siamo arrivati a essere 12.000 13.200 quindi tantissimi grazie ragazzi e per questa volta vi auguro una buona cena una buona serata penso che abbiate già cenato Lion è alla mano di Anna out l'abbiamo 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 l'abbiamo